Beh, e tutti in questo nuovo video, in questo nuovo video, questo è ben po' già il titolo, andremo a provare a vedere come completare la sfida che ci chiede di trovare la scatola nera dell'aereo precipitato. Sfida molto semplice, andremo a provare nel dettaglio dove trovare questa scatola nera all'interno della mappa. Infatti partiamo subito e per trovare questa scatola nera dovremmo proprio regarci a questo aereo precipitato. Infatti sicuramente lo saprete tutti ma questo aereo precipitato si trova esattamente qui a Castello Corallo, su questa isoletta. Infatti ecco qui l'isoletta e recandoci qui in questo punto, esattamente qui in mezzo dovremmo trovare, eccola lì la possiamo già vedere, appunto questa scatola nera. Ecco qui la scatola nera, basta semplicemente andarla a trovare e avremo completato questa sfida. Ecco qui la possiamo vedere, quindi basta semplicemente avvicinarci a questo aereo distrutto qui a Castello Corallo e porteremo al termine questa altra semplicissima sfida, ecco qui la scatola nera. Quindi sicuramente dovrete interagire e completare la sfida. Quindi spero che questo video sia stato d'aiuto, ricordo che la scatola nera vi trova esattamente in questo punto della mappa, qui a quest'aereo distrutto. Se questo video vi è stato d'aiuto come alzato vi ricordo di lasciare un bel like e iscrivetevi e andate attivando la campanella delle notifiche. Così se siamo aggiornati su questi tipi di video nel live lo schieno base a taglia. Infine condividi il suo video, ci siamo a vedere anche a loro appunto come completare questa semplicissima sfida di trovare la scatola nera dell'aereo precipitato qui all'interno di Fortnite, di queste sfide settimana 9 di Fortnite. Noi ci vediamo al prossimo video e alla prossima live. Noi ci vediamo al prossimo video.